E i campioni dell'Europa siamo noi! Vabbè, a parte questi scherzi, siamo arrivati ai 40 iscritti, grazie a tutti! E mentre io vi ricordo comunque di lasciare like, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e di condividere il video con tutti di Europa e di condividere il video con tutti La Detran! Di giocare! Se arriveremo al centro, se volete altri detrann, spaccate il tasto del like Iscrivetevi al canale e a condividere i video con i vostri amici e attivate la campanellina per denportare il suo video E se volete? E al prossimo! E ci arriviamo! Almeno 30 like! No, la gana, la maga! Un ferro, un ferro, ma si è proprio il nub Ma stai dite che prima era il livello 20 Adesso anch'io muoio, guarda! Prima io ero a livello 20 Ma non l'entendo, raga, è impossibile! Ma io ragazzi, prima, ma adesso voi dovete ammetterlo, che ero tipo a livello 20 e voi non volevate pubblicare il video? Sì Confermo Cosa sono ragazzi? Sì, è il primo Sono io Sarà, allora, metti una marcia indietta Metti tipo da retro Dai No, non corre No, sarà, sarà Io Ti odio Cosa spingi di quel martello del piccolo Ah, ragazzi, regola Regola Chi dice parolacci una morte in più Li raccontiamo noi Ahia Sono proprio un pirla Oh mio, non è che sei montata Non è che sei montata Grazie ferro Ovviamente ragazzi Sono carico Tanto sto video non uscirà perché col calore perché diranno che sto video è brutto e perché sono primo Sì, infatti Però io mi sto in coda I ragazzi Ovviamente due più forti Noo Ma stai giocando? Dai a farla Vabbè, per sbaglio si sarà chiuso Sì, perché scherza Comunque anche se ci chiuso Troppo Si, si, si La Sara è morta Sono stata morta Ma no, è viva Ragazzi, quella è con meno morti per adesso è la Sara Ragazzi, facciamo così Che arriva alla fine per primo Dieci morti in meno Ok Ok Beh, vabbè Ferro a che livello sei? Ragazzi, che arriva al primo 110 morti in meno A che livello sei? Che livello te lo dico un altro Vabbè, mi fai messo 21 22 Ti raggiungo Sì, vabbè, però sono livelli troppo Poi Proprio Sì, ma io leggo Dopo Dopo 26 26 26 26 Ah, io ragazzi ero lì alla 27 Non è vero Sì Sì Quanto mi diverto Sara, che livello sei te? Ragazzi Sara, non vuoi pararmi No 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 Fra te 29 Ho pagato il gioco No È vero che devo fare così Devo fare così Ma non cosa ama così Ovviamente Quando capisco il mondo Ti muoio Ragazzi Sara Ma scusatemi Chi è che arriva Ragazzi Chi arriva Prima a livello A livello 100 10 morti in meno Quindi Non dovete camperare Non dovete camperare Chi arriva A livello 100 Per primo 10 morti in meno Mamma mia Quindi Si fa così Speriamo che vi ferma la mia Che livello siete 29 29 Guarda 25 Ecco Questa è il fondo Questa è il fondo Questa è il fondo 27 28 Questa è il fondo Per me Aspettate un'attima Ferro ci siamo anch'io 31 32 No Ovviamente io raga Io sti livelli non li so fare Ma vai Aia la spalla Voi voi siete da play Da Nintendo è impossibile Ti capisco Ti capisco No Mi hai metto l'angolo Mi hai metto l'angolo Il camper Oh mia che pro Però non so stare quella con meno morti Ma non so che non è che hai capito Io ragazzi Io l'avevo bloccato qua prima Proprio Vai Dani Vai 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 Ma adesso ho capito il modo Fai tutto il salto di fila Ma dai Ma dai Adesso continuo prima di visto Finché non mi si paghe il gioco A me una volta mi si paghato Ma dai Ma perché? A me non mi salta Non mi salta Ah Ma con il cavolo Dai a matto Ah io sto lì però faccio fatica a farlo Perché a me Adesso ho fatto il salto automatico Ferro me la criegeri questa trappola Non lo so Ma tanto io sul salto muovo Ti com'è paura Ferro me la criegeri questa trappola Dai per favore tanto se te muore sei avanti Grazie Grazie No ma no Ok ho capito il modo Ho capito il modo Godo Sara Come si fa? Ah non te lo dico Guarda e impara Dai mi riproci Dai me lo dici? Dai Dai Raga Porco di nuovo A che ora? Io raga Sono bloccato qua Un po' Dai Mangio una pizza qua No no raga non mi ha fatto salente No raga non mi ha fatto salente No raga non mi ha fatto salente Cioè raga se non mi fai Eh non ho capito parlare neanche No va Non parlo fin quando non arrivo A livello 34 Dai Dai sto livello impossibile raga Ma dai mio Dio Beh allora Verrà che io lo sai Dietro di me? Sì Anch'io Anch'io Qua hai da dire Anch'io Che è quello che mi non vuole Che è la Sara La Sara La Sara Ma cazzo O mi volete ammazzare Trappole di schifo Da sottolineare La Sara Raga non ce l'ha Che proprio a far con livello? No non ce l'ha Parare Il mago Perché Non ce l'ha La prossima Detran La facciamo su Minecraft Io Mancini e basta Ciao La facciamo su Minecraft E io ovviamente Non ballerò Non andrò in creativa No Ma se lo fai Adesso io lo dico Va bene Vai di via Speciale 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 Non lo so In quanta Un giorno Speciale in banca Va bene No Non vado Non vado Non vado Ma qui ti trappola Ce l'ho fatta Mamma mia Dani 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 Eh? Come hai fatto a fare Tutto di bella Ma non lo so Ancoglio Ho cliccato Y all'infinito Cioè D'Alois Qua se ho scoperto Come si fa Non ci crei Dai triggeratemi Vai triggeratemi Triggerate Sto Che bello Che bello Che bello Perché le 9 Devo andare Oddio Dai Allora facciamo Livello 60 Vi sembra giusto Va bene 60 Come le views Che dovranno fare In sto video Bello 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 Scherzo Sto video Dovete fare 600 Di uso Per non andare 100 Di uso Lo sai che un uvido Peppa la cagna Ha raggiunto Versi La cagna E' un botto Ne ha fatto Madonna Io ragazzi Sto diventando falso Guarda Io ragazzi Mi metto in creativa Mi metto in creativa Anche se non si può fare No ma infatti Ci sono riuscito Ci sono riuscito Sì 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 Ma quale livello Quello Quello con Quale bro Sono a livello 34 Quindi Il 33 Sì Sì Capito No Dai non potete Arriviamo a livello Quale 60 Ok Chi arriva A livello 60 10 morti in meno No E da lì Dai Sarà Non è detto Che io ogni tanto Mi inceppo No Sì 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 No Dai Dai Mi devo andare Ciao Ciao Quindi Terra Terra Terzo Terzo E Grazie Vai ragazzi Ragazzi Ovviamente Ha vinto Ha vinto Dani Io parchiari Era il primo E poi E poi Con 10 morti in meno Avete anche Quello che ha fatto Meno morti Le morti uguali Quindi Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao